ecco un'operazione un po difficile è difficile filmare con questo telefonino dalla bicicletta veramente con una mano solo tenere e più c'è anche il vento ecco le montagne l'entrata alla Val Sugana adesso sto avvicinandomi al passaggio ecco un buon estivo fermavito ecco un buon estivo ecco un buon estivo